Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video di FIFA Sur Italia Oggi vi porto una nuovissima serie sul canale per celebrare la annata strepitosa del giocatore che vedete in sovraimpressione in questo momento Luca Toni è appunto per celebrare i suoi 22 gol in Serie A in questa stagione sperando che anche l'anno prossimo possa ripetere questo obiettivo diciamo La serie è molto semplice, io giocherò delle partite con lui La serie finirà quando avrò raggiunto i 22 gol proprio con lui Io direi di andare a cercare un avversario Ok ragazzi, avversario trovato Ok, lui è una Serie A molto simile alla mia Candreva, Chiellini E va bene, ce la giochiamo Forza Luca Toni Subito la partita allora con Keita Al secondo minuto che entra entro l'area La passa dentro, iniziamo subito bene C'è il gol di Luca Toni, Pepperoni Numero 1 1-0 al terzo minuto Gli bastano soltanto appunto 3 minuti per sbloccarsi Eccolo qui il gol Allora siamo al 27esimo minuto Pala dentro C'è Toni, finta di tiro Parte il tiro C'è Raggiallengolan che devia il tiro del giocatore del Verona Ancora palla dentro per Toni Di Gandreva Palla scavettata Sotto Luca Toni, ancora lui Doppietta Ancora Toni che lancia Keita Balde La mette dentro 3-0 Due gol e un assist per Luca Toni Strepitoso Iniziamo bene questa serie Poi c'è ancora spazio per Luca Toni Che tira Prende il palo La palla però non entra Ancora Toni Serve Candreva Al 47esimo minuto Candreva gliela rimette dentro Colpo di testa Traversa linea E poi c'è Candreva Che la mette dentro E fa 4-0 Partita virtualmente chiusa Inizia con questa traversa di Luca Toni E l'avversario cosa fa? Decide di quittare la partita Allora noi Ne troviamo un'altra Andiamo subito a giocare Iniziamo ancora con Candreva Palla dentro Tevez Dopo la respinta del portiere 1-0 al dodicesimo minuto Ancora importantissimo qui Luca Toni Per lo svolgimento dell'azione Ancora Toni Candreva Toni Entra dentro Parte il tiro La palla È stata deviata E poi Tevez Prende ancora il palo Candreva Scambia con Tevez Più di una volta Al 25esimo Tevez Trova il gol Del 2-1 L'avversario comunque Ci aveva segnato Poco prima Allora ci riprova Luca Toni Al 32esimo minuto Luca Toni Salta tutti Parte il tiro Deviato dal portiere Che non la può Al tiro troppo potente Di Luca Toni Palla dentro Terzo gol Di Luca Nazionale Luca Toni Con il numero 8 Esulta Con tutti i suoi compagni Rivediamo ora Il replay Luca Toni 3 gol E un assist Allora La partita rinizia Qui c'è un calcio Di rigore Per l'avversario Al 34esimo minuto Che segna con Royce La partita Inizia ad andare in discesa Quando Con questo tiro Spettacolare James Rodriguez L'avversario Trova il 3-3 Al 42esimo La palla Prende prima la traversa E poi entra Poi qui c'è Un altro calcio di rigore Questo è assurdo Veramente Ha preso il pallone 4-3 Dell'avversario Con il gol di Royce Ancora una volta Sul dischetto Il rigore Questa volta regalato Poi noi Ci facciamo vedere E qui l'avversario Rischia Il rocambolesco autogol Ci proviamo Per l'ultima volta Con Luca Toni Che qui stacca di testa Ma non la prende Benissimo E la blocca il portiere Allora L'avversario Si fa vedere Con Royce Tripletta per Il tedesco 5-3 La partita finisce Finisce Anche il primo episodio Di questa serie Non male Dai 3 gol In due partite Per Luca Toni Dobbiamo farne Ancora 19 di gol Quindi ci vediamo Al prossimo episodio Voi lasciate un like Un commento E iscrivetevi al canale Bella Al prossimo episodio E iscrivetevi al canale